Roma, carica pipita. Gonzalo Higuain è tornato, e non ha intenzione di fermarsi, anzi. I due gol consecutivi a Olympiacos e Atalanta con cui si è rilanciato e ha interrotto il digiuno di quattro partite, hanno riportato il sereno nel cielo sopra il bomber. Che ora ha un obiettivo chiaro per questa sosta? Ricaricarsi al meglio, mettere a punto il motore per la ripresa e trasformare la nuova delusione della mancata convocazione con la nazionale argentina in ulteriore motivazione e rabbia agonistica. Al lavoro. Ieri il pipita è apparso sorridente a Vinovo alla ripresa della preparazione dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Massimiliano Allegri. E si è subito calato nel lavoro che lo attende in questa pausa. Un programma atletico incentrato sulla velocità, sulla ricerca dello sprint, e della brillantezza nel breve. Una tabella di marcia scandita giorno per giorno per tornare ad essere letale e con un doppio traguardo immediato, la Lazio e lo Sporting Lisbona, ovvero i due impegni fondamentali per Scudetto e Champions League, che attendono la Juve alla ripresa.